Oggi preparo stella di pasta sfoglia con ricotta e spinaci. Ho iniziato a bollire gli spinaci, poi li schiaccio per levare l'acqua di vegetazione. Poi in una bulla ho messo 500 g di ricotta di pecora, 2 uova, 50 g di formaggio grattugiato, sale e un po' di noce moscata grattugiata. Mischiate bene tutto con un cucchiaio. Poggiate la pasta sfoglia rotonda direttamente sulla lecarda del forno. Distribuite il ripieno di ricotta e spinaci in tutta la superficie. Ora incidete, fate delle linee a croce per metà della pasta sfoglia, poi ulteriormente ne tracciate altre 4. Se ti piace questa ricetta commenta anche con una sola faccina. Ora formate le punte della stella unendo queste due parti di pasta sfoglia. Questa ricetta è molto bella da presentare anche per l'ultimo dell'anno, è anche molto originale. Una volta che avete formato tutte le punte incidete di nuovo dal centro, fate partire queste strisce che poi dovete ripiegare. Una volta che avete inciso tutte le strisce, con l'aiuto del coltello, con la punta del coltello, aiutatevi per sollevare il lemo della pasta. Così come sto facendo io. Con questa procedura vi sporcate un pochino le mani, ma ne varrà la pena perché poi il risultato sarà veramente bello da vedere. Ultimate questa stella di pasta sfoglia con dei pomodorini e delle olivie. Mettetele in tutti gli spazi dove trovate e niente. Adesso ultimate con una spennellata di uovo sbattuto interamente in tutta la stella. Poi infine mettete dei semi di sesamo in tutte le punte. Cuocete in forno caldo a 180 gradi per circa 30 minuti. Questo è il risultato. Ne approfitto per augurare un buon anno a tutti. Grazie e alla prossima ricetta.